Oggi e domani, a Fiano di Nocera Inferiore, la nona sagra dei sapori antichi d'Oscopte Fritte. Tutti a lavoro nel quartiere in prima fila, le massaie, con le loro mani sapienti ed esperte, hanno preparato le pietanze che verranno offerte ai visitatori, certamente numerosi, come negli anni scorsi. Non mancheranno, ovviamente, i prodotti della terra, broccoli, melanzane, zucchine. E poi l'Oscopte, cosa sia, ce lo spiega uno degli organizzatori. Dopo un anno di interruzione si riprende la sagra dei sapori antichi e Scopte Fritte. Invitiamo tutte le persone a venirci a trovare, sperando, come gli altri anni di essere, che le nostre pietanze che stanno preparando le donne del nostro quartiere siano di vostro gradimento nei giorni 7 e 8 settembre, a partire dalle ore 20. Qualcuno ci chiede, alla curiosità di questa sagra, che cosa sono le Scopte Fritte? Sono dei piccoli pesciolini che una volta si pescavano nei fossi del nostro agro e nel rio San Marino. I nostri nonni li andavano a pescare con il famoso cuoppo e le nonna li infarinavano con farina di grano duro e le servivano a tavolo, specialmente nelle festività di Natale. Quindi, per provare, per assaporare questi vecchi sapori, in via Fiano, a Nocere Inferiore, il 7 e l'8 settembre, sagra dei Scopte Fritte i sapori antichi. Veniteci a trovare.